Grazie Presidente, io vorrei replicare anche se sono un po' in difficoltà perché in questa discussione generale ho sentito parlare degli effetti negativi quando ancora manca l'applicazione. Ho sentito parlare di ciò che non esiste perché per quanto riguarda i dirigenti scolastici manca ancora un provvedimento ad hoc che regolerà proprio quelle situazioni in cui quei dirigenti hanno più plessi, soprattutto nelle amministrazioni più importanti. Non c'è niente di tutto ciò, quindi la discussione generale è stata improntata su ciò che non esiste e proprio perché questi dirigenti, se parlato tanto delle verifiche biometriche, queste verifiche biometriche servono soprattutto a quei dirigenti nelle amministrazioni più grandi che devono girare da un plesso a un altro perché non sono in grado di tenere sotto controllo le presenze, le assenze dei sottoposti. E questo è importantissimo ed è un provvedimento che a me sta a cuore perché io sono un amministratore locale, sono assessore in un capoluogo di provincia per cui un'amministrazione comunale con più plessi in cui i dirigenti scolastici che hanno varie funzioni, le più disparate e quindi si devono muovere da un immobile comunale a un altro e non hanno la percezione di chi c'è e di chi non c'è. Si è parlato molto ma poi alla fine mi sono resa conto che sono le stesse cose che sono state dette durante la discussione in prima lettura, il fatto che c'è duplicazione fra il nucleo concretezza e l'ispettorato del lavoro. No, il nucleo concretezza e c'è anche nella relazione tecnica spiega qual è il ruolo, quali sono i compiti, quali sono le finalità del nucleo concretezza. Il nucleo concretezza è di fatto un tutor che va a supportare quelle amministrazioni pubbliche che sono in difficoltà e che non riescono a essere efficienti nei servizi, servizi erogati ai cittadini ed ha anche nell'eventualità ce ne fosse bisogno delle misure correttive che vanno a supportare anche quelle realtà più piccole dove magari c'è meno professionalità, meno esperienza e hanno bisogno di un supporto. Poi funzionerà o non funzionerà ragazzi ma in dieci anni nessuno ha mai fatto niente, sono stati messi delle toppe che hanno fatto peggio. Noi ci abbiamo messo la faccia, ringrazio il Ministro, buongiorno perché si è dedicata anima e cuore per l'amministrazione pubblica che per anni è stata messa da parte, l'amministrazione pubblica sono servizi ai cittadini, l'amministrazione pubblica è importante perché se non funziona si ferma il Paese. Noi sappiamo l'età media dei dipendenti pubblici è pari a 53 anni, la presenza degli under 35 nelle amministrazioni pubbliche è intorno al 2%, noi vogliamo ringiovanire, efficientare, fare un ricambio generazionale e il turnover c'è, non è mai stato fatto, c'è, perché essendo 52 anni l'età media del dipendente pubblico capite che le persone che hanno lavorato una vita sono più in difficoltà, abbiamo bisogno di mente fresche e con l'articolo 3 ci saranno assunzioni mirate e ricambio generazionale. Per quanto riguarda la lotta alla prevenzione all'assenteismo, per qualcuno si critica l'assenteismo non c'è. Io vorrei porre alla vostra attenzione quattro situazioni. Ottobre 2015, Sanremo, 196 dipendenti comunali coinvolti e 43 misure restrittive. Luglio 2016, Bosco Trecase, 30 dipendenti comunali indagati per oltre 200 episodi di assenteismo. E in queste situazioni c'erano anche segretari generali comandanti della polizia municipale e quindi le verifiche sono essenziali perché questo governo è vero, è il governo del cambiamento, è un provvedimento di buon senso perché sta dalla parte dei lavoratori per bene e quindi farà una dura lotta contro l'assenteismo perché ricordiamoci che i lavoratori pubblici che non vanno al lavoro, che timbrano, escono, vanno a fare la spesa e si trovano in situazioni personali ma fuori dall'ambiente di lavoro, vengono pagati con i soldi pubblici. Quindi io ringrazio il Ministro Buongiorno, ringrazio anche i rappresentanti del Governo che insieme a lei e anche i componenti della Commissione hanno lavorato a questo provvedimento perché è un provvedimento di buon senso che mette olio, mette benzina al motore della pubblica amministrazione che ormai da anni si è quasi fermato. Grazie.